Suonare con Danilo, sì, ho suonato spesso con Danilo, Danilo ha suonato anche con me in concerto, adesso lui magari nella musica pop non lo fa più. Danilo suona e suona bene qualsiasi cosa. Ma cantare con Danilo Rea non è solo cantare, è un viaggio, è un'avventura, perché puoi fare tante date e non sono mai uguali l'una all'altra e ci si sente ormai, ci si conosce bene e ci si sente a vicenda e ci si segue a vicenda. Non è mai programmato, non puoi programmare una performance con Danilo, con Danilo è un divenire, è tutto un viaggio, ecco, come giusto appunto. Alcune canzoni non possono venire decontestualizzate dal momento in cui sono state create, perché sono state ispirate dal momento storico vissuto nel momento. Poi ci sono canzoni che passano di generazione in generazione, di epoca in epoca, una tra queste, che posso dire, o che sarà di Cicco Buarche. Che in qualsiasi epoca tu la possa ascoltare e tu l'ascolti, abbraccia comunque lo stesso significato. La storia di De Gregori è un'altra canzone che è trasversale. Ci sono alcune canzoni che invece magari rispecchiano il momento storico o anche tanti libri che rispecchiano il momento storico, che magari ascoltati in un contesto diverso, in un'epoca diversa, non hanno più lo stesso sapore. Io direi che il ruolo dell'arte in generale nella società è un ruolo fondamentale. La musica ha segnato generazioni intere. La mia, per esempio. Io sono cresciuta e sono stata formata da diverse cose legate all'arte. Sono stata formata da certi libri, sono stata formata da certi film, da certi quadri. Sono stata formata con certi cantautori e musicisti. L'arte racconta i nostri disagi, le nostre incertezze, le nostre paure, le nostre speranze. Questa è la funzione dell'arte. Aiutare comunque il pensiero, qualsiasi tipo di pensiero. Stimolare il pensiero, stimolare la curiosità. Stimolare la ricerca, anche di te stesso. Umbria Jazz ormai è un'istituzione. Cioè è una certezza, è un appuntamento fisso, è ormai da tanti anni. Per cui è un punto di riferimento per un certo tipo di musica, ma insomma anche per chi ha un gusto più pop, viene lo stesso ad Umbria Jazz a godere della programmazione. Per cui è ormai una certezza per tutti. Senti che fuori piove. Senti che bel rumore.